segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te quante donne devono morire trocedate massacrate da uomini violenti e da chi le giustifica prima che noi consideriamo il femminicidio un'emergenza nazionale una piaga che sta dilagando non sta diminuendo perché nel 2022 abbiamo avuto meno donne uccise che nel 2023 quante donne devono morire nel 2024 prima che tutti noi tutti noi cominciamo a ribellarci perché il 24 di novembre io spero che ci saranno milioni di persone nelle piazze ma spero che ci saranno anche centinaia ovunque anche i parlamenti ovunque perché davvero a questo punto mai più mai più basta per questa emergenza sta uccidendo un pezzo dalla nostra vita un pezzo dalla nostra cultura ci hai dato un'introduzione